Domenico Ciacera, responsabile marketing Unicredit Subito Casa, a Sinergie, l'evento dedicato all'immobiliare dei servizi qui a Milano. Ti chiedo un commento a margine di questo pomeriggio. Prima di tutto grazie. Grazie per noi di Unicredit, Unicredit Subito Casa è comunque un privilegio poter partecipare a questo tipo di incontri. Non era facile comunque entrare in sintonia con una platea che alcune volte ci ha visto in maniera ostile. Direi che oggi invece, anche se chiedo a te un feedback, mi sembra che abbiano percepito che il nostro obiettivo è semplicemente quello di dare una mano a l'aumento della trasparenza, dell'innovazione sul mercato e l'aumento della percezione da parte del cliente del servizio che fornisce un agente immobiliare. Domenico oggi è rimasto molto sul ruolo centrale dell'agente immobiliare. Ci aspettavamo un intervento fatto da dati, statistiche e tabelle. In realtà ci ha parlato di emozioni e quindi quanto è importante la componente emozionale per chi fa business nell'immobiliare? Questa è una cosa che ha colpito in tanti. In realtà noi abbiamo parlato solo di clienti. Abbiamo messo il cliente al centro e abbiamo raccontato come attraversa il suo percorso di compravendita da un iniziale delirio di onnipotenza che crede di poter sfruttare per utilizzare il web per concludere la compravendita immobiliare quando si accorge che l'agente immobiliare fornisce un servizio indispensabile, forse un servizio ancora di base, forse un servizio che va potenziato, sviluppato, va fatto del marketing dell'agenzia immobiliare in senso di categoria e quindi di elementi di rassicurazione che sono fondamentali. Le emozioni le abbiamo trattate perché sono quelle cose su cui lavorare per dare rassicurazioni a un cliente che fa probabilmente l'acquisto più importante della sua vita. Questo è il motivo per cui abbiamo parlato delle emozioni, perché dietro c'è un cliente. Quindi anche le SPA di derivazione bancaria hanno un cuore. Oggi l'abbiamo. Assolutamente sì. Grazie mille, Domenico Ciagera, responsabile marketing, unica di subito casa.